Nel dicembre del 1783 noi sappiamo che l'imperatore Giuseppe II d'Asburgo visitò la fabbrica quasi ultimata del teatro. Gian Crisosto Motovazzi dice nel suo diario secolaresco monastico 12 dicembre 1783 si fermò soltanto circa un quarto d'ora nella bottega del signor Gazzotti a Trento aspettando che fosse lavata la carrozza. Poi in Roveredo fu a vedere il nuovo teatro pregato a ciò dal conte Francesco Alberti e dal cavaliere Carpentari. Vedutolo chiese quanto costasse ed essendogli stato risposto che costava 18.000 fiorini disse che avevano fatto una spesa superflua e la disapprovò con altre caricate espressioni giuste. Allora quei due signori lo pregarono e chiedessero licenza di tenere in esso almeno il gioco del faraone ed egli negò loro assolutamente tal grazia dicendo che sarebbe stato lo stesso che dar loro un coltello da scannare i propri figli. Il gioco del faraone era un gioco di carte dove si perdevano molti danari e quindi i due Roveretani gli chiedono di poter trasformare momentaneamente il teatro in una bisca per il gioco d'azzardo per poter pagare le spese per ultimare la costruzione del teatro e avviare anche la sua attività. Giuseppe II rimontò nella carrozza e mentre alla posta fu fatta la mutazione dei cavalli stette nella medesima carrozza. Passato Marco scese per leggere un'iscrizione fatta su un sasso ed allora il postiglione, il Roveretano, ginocchiato segli davanti, si azzattò di dirgli che invece di andare a vedere il teatro avrebbe fatto meglio andando a vedere la banca del pane essendo picciolo il pane che si fa a Roveredo. Arrivato a Ala vi pervennero anche i due signori Roveretani suddetti chiesero udienza ma fu loro negata e fece dire agli stessi che in avvenire sarà egli il soprastante al teatro il che vuol dire il sovrintendente. Sono dunque ritornati confusi e si sentirono beffeggiare poi da Mantova Giuseppe II scrisse di proprio pugno al magistrato di Roveredo che si giustifichi rapporto alla piccolezza del pane in Rovereto e rimandò al signor Carpentario quale sarebbe stato il primo dramma recitato nel nuovo teatro ed ebbe per risposta le due petizze. La petizze era una moneta che si coniava da parte dell'Austria a Venezia e che valeva veramente molto poco quindi era una risposta molto ironica e anche abbastanza coraggiosa. Il 20 dicembre 1783 Tovazzi continua l'imperatore ha detto che in questo suo viaggio non ha ricevuto memoriali più indegno di quello presentatoli in Ala ai Roveretani e subito diede ordine al capitano Trentinaglia cresciuto quattronce il pane di Roveredo. Questo vuol dire che il pane e la pagnotta di Rovereto doveva essere fatta con quattro once in più di farina di frumento e naturalmente il prezzo doveva rimanere invariato. Detto così sembra poca cosa in realtà questa era una forte tassazione che avrebbe dovuto gravare esclusivamente su quella classe dirigente di Rovereto che si era permessa di costruirsi il teatro e forse proprio per questo motivo il teatro rimase privo di una facciata fino al 1870.